Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Gamer1038 Oggi siamo in un nuovo video di Minecraft sulla custom map di escape room Siamo in una stanza e noi dobbiamo scappare dalla stanza Inizierà che sarà facilissimo e finirà che sarà una cosa impossibile Proviamolo Ora qua abbiamo una leva Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo metterlo ovviamente e andare Abbiamo dovuto andare in room scape L'obiettivo è scappare dalle stanze Ok più vai avanti più sarà difficile Andiamo Ok era qua, vabbè dobbiamo romperla Ok Scusate il lag ragazzi ma Quando registro Calano mentre quando non faccio niente va velocissimo Ok Ora Dovremmo rompere il pulsante E metterlo qua E non va Se lo metto qua invece cosa succede? Ok 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 ragazzi sono già bloccato che vado Allora Ma devo tipo prendere la pietra rossa da qua No Cioè Sembra strano Però vabbè lì me la prendo Che cosa dovrebbe attivare? Scusate Aspettate Ok Allora è un po' complicato C'è da pensare molto Ok 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 ragazzi Prima si è aperta Cacca Ah ma si è aperto qua? No Ok E non ha cagato in realtà Ok Non capisco Che cavolo Devo fare Io debba fare Allora Vediamo La Non In realtà Non c'è niente Cosa dovrei fare? Scusate Ci sono mica bottoni nascosti? No Solo io vedo il blocco sminchiato Ma che cazzo? What? Ok Non so se sia normale Sta cosa Però è figa Perché Non me ne sono mai accorto Ok Andiamo Prossimo livello Che mi sa Tipo di parkour Però non mi sembra tanto parkour Quindi Cosa devo fare? Cosa devo fare? Oddio Allora È molto complicata Comunque Aspetta Proviamo Ma c'è tipo un pulsante C'è tipo un pulsante Cioè che cazzarola devo fare? Non lo so Oh ok C'è una leva E non è cagata Andiamo al prossimo Ok Ora quindi So che devo stare attento Anche alle pareti Nuova cosa Quindi proviamo Prima di tutto A vedere se le pareti Si Vanno Ok No Però ora È vuota Quindi Forse dobbiamo Prendere la leva Da qua E Allora Perché vedete Quando salto Cioè Quando salto Cioè Non Non la rompe Quindi Quando salto La rompe Quando non salto Non la rompe Quindi non so Cosa io devo fare Cioè Non Non so Proviamo Il prossimo Qua Che cazzo S'ha aperto Cioè S'ha aperto A caso Io ho schiacciato La leva S'ha aperto Anche questo Beh Poco male Ok Ok Ora però Non si apre Ok Vediamo C'è una cesta Con una pala Di diamante Ok Prossimo Prossimo Nivallo Ok Allora Ok La pala La La roba Ovviamente Poi viene buttata Cioè Non appare Nell'inventario Ed eccoci qua Fatto Prossimo 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 Allora In realtà Non vedo niente Magari c'è di nuovo Ok No No Magari No Ok Speravo che nella cesta Fosse apparsa qualcosa Però Non c'è nulla in realtà Ok Non vedo un cazzo E dire Allora Basta tipo Non so Magari c'è un blocco di terra Camuffato Al posto della Qua Della lana E del ferro Però Non vedo niente Ok Non vedo Non vedo niente Raga Non Non lo so Dove posso Cosa posso fare La però vedo Un'altra stanza vuota Quindi Potrebbe anche esserci un pulsante Tipo Però i pulsanti di ferro Non esistono In Minecraft Quindi No ragazzi Magari devo rompere quello Aha Provato Ok Prossimo Per se però io esco Eh si chiude Quindi metto No Si chiude No Vaffanculo Il lag Ok Allora Adesso Proviamo con Velocità Ah Un villico Un villico Cosa vuole Ok Allora Per un ingotto d'oro E il ferro Vuole un pulsante Quindi io Suppongo che debba cuocere Suppongo che debba cuocere Questi Ok Ok Bene Bene Però qua c'è un blocco diverso Quindi forse Quindi forse devo metterlo qua Perché Cioè è strano che abbiano messo in blocco a casa Sembra troppo strano Quindi Ok 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 Grazie mille Villico Infatti non si apre Forse va messo qua Ok Prossimo Allora No raga Questo è difficile Ho capito cos'è Si deve illuminare questo No Non è una cagata Cioè Serio raga Io credevo Dovesse Dovesse illuminarsi Questo invece Ho trovato la solution Ok Torniamo su Madagna Ok Ok E però Non si illumina Perché Proviamo così Eh no Scusate Che cazzo Devo fare Magari Hai cambiato qualcosa Qua Però non credo Magari c'è un pulsante Di legno Ok no Sbagliato Altre sei Ho capito Forse Perché sono le pedane Quelle pesanti Quindi serve più roba No Minchia raga Che cazzo serve Cioè Quanti mattoni Minchia ma con Un carpintiere Un carpintiere Ma forse Mi sto sbagliando Io raga No Perché mi sembra Troppo strano Sono tipo Mi sto liballo Da un botto di tempo Eh no ragazzi Adesso non capisco Magari è solo una piastra Non sappiamo No Nemmeno questo Allora rompo quello No Aspettate No raga Me l'ha già spawnato Allora Forse sono due Tipo Proviamo questa Poi Uno Due Tre No Provo l'altra Uno Due Tre No Proviamo con questa 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 No Questa Questa No Questa Questa Raga Non capisco un cazzo Vi giuro Allora Qua l'abbiamo già fatto E io devo andare Di qua Però Non Non vedo soluzione Ok Allora Non capisco Cosa devo fare Ok Ok ragazzi Allora Non lo so Ditemi magari Qua sopra Nella tendina Che si apre Cosa devo fare Secondo voi Scrivetemelo Magari in un commento Sennò vi lascio Il sondaggio Qua ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Noi ci vediamo Nel prossimo video Tanti saluti Ciao ciao Ciao